Cari amici, musicisti, io non parlo bene italiano, però è possibile cambiare un po' in inglese, il francese è un po' cambiato. Perché parlare della musica in questa maniera? Sono stato molte volte in concorso internazionale come membro della giuria e ho ascoltato fantastici musicisti senza falsa nota incredibile, 13 anni, 14 anni, incredibili. Però posso dire che solamente il 20% sono musicisti, solamente suonano piano extraordinariamente bene, però non toccano l'alma. E ho pensato molto perché c'è una differenza fra una performanza tecnica perfecta e la performanza che tocca l'alma. E ho parlato molto con differenti professori di psicologia e filosofia e ho domandato lei sa perché hai questa differenza. Abbiamo trovato una soluzione che planificar una interpretazione è una cosa e suonare nella scena è un'altra posizione. e quando un musica suona la cosa planificata e suona come ha preparato la musica a casa è possibile di applaudire perché è perfetto. E noi possiamo dire che è un musico che ha lavorato bene, bene, però quando un musico viene in la scena, in la strada, sull'estrade e dice che ora ho trovato qualcosa che non conosco. c'è da dire, abbiamo la possibilità di fare molte variazioni in preparare la nostra interpretazione, e nella scena, quando stiamo a un concerto, non vediamo cosa ne vediamo davvero di queste variazioni che abbiamo preparato. quindi è molto rischiato, perché noi non vediamo come la nostra intuizione, la nostra inspirazione, ciò che ciò che vi ha preparato per voi un paper, ma non abbiamo i paperi, non importa. E io voglio mostrarvi cosa è la differenza tra la quattro di Chopin, perfetto le note e le variazioni di emotione. E senza i paperi è difficile di mostrare, ma credo che posso. Io posso improvise ora, non importa. È possibile, è improvvisare anche. Abbiamo il principio. È nulla, è solo 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 solo. Ora, ho visto tutte le YouTube presentazioni di questa ballade, e ho trovato due molto bene. E ci sono due hundere. E molti, anche più famosi, togono... ... 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 devi fare un po' accelerando e devi fare questo e questo e questo e ho fatto perché sono grandi professori dicono che devo obedeci e devo fare questo, certo, certo. E mio professore, che non era famoso, Raymond Trois, ha detto che il primo 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 è sempre qui, è venuto da qui. e se volete al concerto di Estrada, avete in cui... e poi volete... e ora il tam 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 stopt e il violino è iniziato come from heaven, qualcosa di nulla e poi da di da da di da da e ora c'è un po' molto buon punto che è arrivato e ci sono molte persone che giochano Do, Re, Si e Rubinstein ha detto, no, è sempre Do e questo è un po' più alto e un po' più profondità quindi il guitarrista può giocare ma possiamo solo da, di, da ma possiamo fare un po' di l'illusione di più profondità e più profondità e non giocare è più e quindi hai Do come i cantori che hanno Do perché è una domanda che non sai dove sei e quindi e quindi e quindi e quindi e questo è il principio io prendo un'altra domanda perché perché è un po' di musica e non mi piace questo punto ora ora il tema è iniziato il tema è iniziato e se abbiamo Do Fa Mi Si Re Do Fa Mi Si Re Se Ho Sì Il Se Noi D' Poi Se Ha Se 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 Si ma devi fare ciò che vuoi, ma devi fare in un modo organico, logico, emozionale. Non ho saputo quando ero, come voi, come voi fare l'emozionale, logico, perché l'emozionale non è logico. Dice, sì, l'emozionale è molto logico, perché se c'è un uomo e un uomo kissa e c'è un mosquito coming and the kiss is over, so he said if you divide da di da di da 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 in small particles then you can have the logic rubato of stopping, going, stopping, going, also neutrally is this This, this will be, it's wonderful, it's the same to everything. But if this ballade is based on not really knowing what is coming, then you are hesitating, or you are going forward, or you are searching. I think it's a searching form. Then we can do one variation. Da da di da di da 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 Possibilità. Rubinstein ha fatto questo. Non è organizzato da, 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 da. È più meramente meraviglioso. Come nel primo piano concerto, ha fatto questo perché molti spiegli. ice состоì su ваши chops in un pianoministrato. qui, da, 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 da. Lo di, da, da, da... ha detto, un po' come scrivin, abbiamo parlato di scrivin, il vapore è riuscita, è riuscita, è riuscita, è normale, ma è riuscita, non è il fatto. Penso che quando vediamo la cosa di disperare, non solo decrescendo, crescendo, e cose di così, o cose di come, è più in l'immaginazione, come questo ... 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 wave bigger wave where the ocean ships go and the very big wave when the moon is taking the water and giving a bag with its gravity and so on and our spirit of interpretation is like the wind or no wind and in Schubert there are sometimes no wind and we spoke about Min Young leader do you know the Min Young leader yes there's one leader lead of Schubert where the Min Young is before God and said ich stehe vor dir mit dem weißen Kleid und bin kein also senza peccato so no puro purissimo no peccato and this is a wonderful there is no wind no wind it's more there you cannot say you have to you have to be without peccato no no peccato and pero es muy difficile de ser inocente no no es posible pero la imaginación por crear una situación de ser inocente pero no ya no la posibilidad de de pensar una cosa que no exista nos siamo animal siamo humana 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 see and for this reason to come back to the waves if we have in this ballada one wave the ultra vai the ultra vape e e Grazie a tutti. 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 Però quando abbiamo ascoltato gli altri e cominciamo a suonare siamo un poco prefabricati. Non è bene. So, un altro logo. 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 In die weite Welt hinein, in il mondo, in il grande mondo. In die weite Welt hinein, non solo in il mondo. Una weite Welt hinein, ah ok. Ok, jetzt stock, he has a baton, baton, and a hut, chapeau. And he is for the mirror and says, oh that's very nice, stock and hut. Stock and hut, gefällt him gut, stock and hut, staccato, because the stock, gefällt him gut, gefällt him gut, he is very, he likes himself. He likes himself, wah wah wah, I am very happy, oh very nice. Er hat frohen Mut, he has a very good joy in the, er hat frohen Mut, accelerando. And now the mother is at home, and she is crying because the small boy is away, and so he, und die Butterwein so sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Das sind key things about the mother. Läuft geschwind, nach und raus geschwind. Also, the music is in this things. Hänschen klein, ging allein, in die weite Welt hinein. Stock und hut, stehen im Hut, er hat es hart und Mut. Und die Butterwein so sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da versinnt sich das Kind. Läuft nach Haus geschwind. And now, the emotional thing in France is now, you are conducting emotionally with Dore, Mi, Fassolacido. So, you think, maintenant, also Solana text. Sol, Mi, not Sol, Mi, Mi. Because, corporeal feeling is accent, mass, also the view. And if I have da, 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 da. Also, this is, it's very difficult because you have the emotion in the Do, Mi, Mi. Fa, Re, 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 Mi, Fa, Re, 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 Re Re, 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 Re... E questa forma per i bambini è molto interessante perché anche se si spaventano Bach senza texte, possono solmizar, non so se la parola existe, una fuga. E se spaventano Bach come questo, ho da ta 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 ta, ma se voglio parlare con la musica, devo avere una linea. E questo è solo un accord. E questo è un accord. E questo è un accord. Quindi abbiamo, il medio è cantato, il resto non è cantato, è accompagnato. Questa è una possibilità. C'è un po' molto famoso preludio nel primo libro di Voltinger's Claviere, in mi bemol majeure. No, no, no. Second tema. Doppelfuge in preludio, fantastisch! And after you have the first time combinated with the second time. Now you can do, if you want, the first tema more than the second tema. You can do, instead of... We didn't have to phone with the second time. I don't know what is most important or less important. But for inspiration, it's necessary to practice various variations to have the possibility of taking, when you play in the concert, what is now in your heart. And not the planned thing. Naturalmente, i studenti sono forzati da fare una versione ben preparata per l'esamen, naturalmente. Io parlo della vita in generale. Se un musico vuole fare esperienze differenti, è necessario variare le interpretazioni dell'anno passato. E io ho veramente cambiato molte volte le mie sonate del Beethoven. Quando erano giovane, io ho giocato... ...in questo modo. sort ofbrashe le mie in generale... Like in China. Or... ma io trovo in China, e io sono molto in China, e si io sono detto, è brudullum, brudullum. Perché? Perché è brudullum, brudullum. Ok, possiamo fare, ma non è brudullum, brudullum. Perché Chopin ha detto che era in grado e il regno veniva in grado, il grado di water, veniva in grado, non c'era più... E Rubinstein ha detto, cosa stai facendo nel paese? E io ho detto, non so, non so, non so, non so. Puoi fare questo... ...or puoi fare questo... ... come la la... ... ma non so, non so... ... ma penso che psicologicamente è necessario sapere cosa stiamo facendo nel processo. ... e oggi abbiamo il Valstein Bernardo, lo sai... ... e abbiamo... ... e ho... ... e ho... ... e ho... ... e ho... ... e lei... ... non è una critica per te... ... e lei... ... e lei... ... non così... ... ma un po' ... e lei... ... e lei... ... per il pubblico è necessario avere... ... Perché le pausate sono con gestione lentamente, perché è un movimento slow, non puoi fare questo. Perché io trovo molto necessario di fare una discussione su questo, ma cosa è la differenza tra playingi perfetto, o fare qualcosa di stickele. Oh, un'altra forma. Non so se Bach piace questo, ma non è un ticke-tucke-tucke-tucke. Quindi noi dobbiamo trovare un modo individuo e anche se vogliamo vincere la competizione internazionale, oggi non è buono, o non è buono, o non è buono abbastanza di spiegare perfettamente. Perché molti pianisti possono spiegare questo senza farlo. E io ero molto spiegato, tre volte, non molto spiegato, tre volte in la competizione di Schumann in Zwickau, in l'esterno dell'Europa, e c'era una città di Kreisleriana. Kreisleriana, ok. 120 giocati di Kreisleriana, perché è stato un obbligatorio, una città di Kreisleriana. e tutti spiegati. Un'altra città, tutti. E poi qualcuno viene, viene da Moscao, 20 anni, e spiegà. Più più. Più più. Allora, tutto tutto diverso. Non posso veramente farlo, ma è stato veramente... E abbiamo parvato la parte del terreno, perché è stato molto diverso. E penso che per noi, in una conservazione come questo, con questa famosa fame, con Niccolò Paganini e tutto questo, è necessario avere il spirito e la conscienza del valore della musica in generale, perché il valore della musica è, dicendo politicamente, molto necessario. Perché se hai una fuga, hai una fuga, il reo è venuto, il reo è venuto, il reo è venuto e gli altri non hanno nulla a dire, solo per accompagnare. E poi il secondo reo è venuto e il primo reo è venuto nel secondo ruolo e è il servante, è stato il reo e ora è il servante. E poi il terzo reo è venuto e il secondo reo è venuto a essere il servante. Quindi noi insegniamo come persone, come studenti in la musica che abbiamo bisogno di essere servante e king e queen. E in chamber musica è la stessa, se ho in chamber musica, devo dire, devo fare, devo fare, devo fare, e questo è molto necessario. E io penso che in nostro sistema, in Germania anche, non critico il sistema qui, il sistema qui è vero, perché è davvero un paese musicale. in Germania, in Germania, il sistema è vero, ma praticamente non, perché molti professori che sono qui sono qui prendono solo quelli che non hanno problemi. e quando si vengono da China o da Japan, si vengono il programma per l'examen, e si vengono il programma per l'entranzo, e si sono accettati perché è molto bene, non è un errore, non è un errore, non è un errore, non è un errore. E poi si vengono il programma per l'examen in Germania, e poi si vengono e si vengono, e si vengono. Ma si vengono, non è un errore, e questo non è un errore. E il professore dice, ok, non ha bisogno di venire perché ha conosciuto queste cose. E io non mi piace questo. E io penso che se non abbiamo la connaissance d'importanza e non d'importanza, come in la fuga, di essere king e servante. Questo è molto necessario, per avere la possibilità di guidare e essere modesti e non molto egocentrico. Quindi, torniamoci a la ballade. e poi abbiamo un'altra cosa, per arrivare a questa linea. 9 e 6, dove siamo arrivati qui. Abbiamo il problema, dopo... lo faccio un'altra cosa per ora. E poi la prima cosa per noi. E poi la prima cosa per noi. E poi la prima cosa per noi. Grazie a tutti. 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 Don't listen to the mistakes. I play this. slowly. Now I have done. This is very difficult. Normally, it's more easy to do. I do this. I play the third. I play the third. This is not. I play the third. You don't know. But the way, but the way, but the way, but the way, but the way of having the possibility, is, but the wind, but the fun, the way, but the second. e l'Apa sonata anche, è un po' lo stesso. E se hai ora il tema della ultima sonata, e facci il crescendo in due mani, se facci il crescendo, poi molti fanno questo in tempo. Ok, possibile, ma non è bene, perché non è la musica separatamente, polygfonicamente da qui. Perché questo è... Perché avevi preparato... Quindi è... E ora facci il stesso... E anche... È il stesso problema. Ma la parte l'altra parte non è la stessa. La parte l'altra parte fa... È il crescendo, il crescendo qui, il crescendo qui, il crescendo qui. Molto difficile. È il tempo. Non, 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 non. abbiamo solamente una versione, una versione preparata, non è possibile arrivare al corazon, al cuore del pubblico. Perché oggi è molto difficile arrivare al cuore del pubblico perché il pubblico è saturato, televisione, for this reason we have to find a way to bring them to concentration. And the concentration is only possible if you have an individual conviction. It's not, don't do what the teacher said. Don't do that. Do what the teacher said, but a casa, do what you want. I did always, I had 20 teachers. Three, very good. 17, normal. But I was always obeying, I did what they said. Exactly. But at home, I did what I wanted. So, when there was a concert of the students, I played as I felt. and then the professor said, exactly. I said, always that. You do what you do. So, because obeying is not good for artists. Obeying is good for a possibility, for a possibility to train, to train a variation what you don't like, but what someone, others like, because you are dependent on him. Okay. We do, because you are a student, and he is a great teacher, and the master, and so on. And then he will be, will be okay. Because, but after, you are not a child, again, you are an adult, you must do your own thing. Yeah. And for this reason, I learned, my bad teacher, I had, were very good for me, because I did not do what they wanted. Excuse me, did I say that? But, they gave me the motivation, not to do what they wanted. Yeah. If I had done, only because, yeah, okay, I do that, I do that. I did, but I did not with my, with my core. Yeah. I did, no, I did only for, for, to please them. Yeah. And the other teachers, the very good teachers, I could not reach their wishes, because they wanted things, I could not do. It was too difficult, what they, what they said. But, between those, there is a development possibility. Yeah. A development possibility. And, now I come, I come once more back, to the, we have done, if you say it's too, too long, I stop it. You say, Paula, you say, stop. Yeah? You have, the second variation, you have this, it's very difficult, because you have, middle voice, and you have, the, 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 second voice, more than the hop thema. This is, it's not musical, but it's a possibility, that, for the spirit, for my brain, I do, very exaggerating, those voices, who are not important. Also, I work more for those who are not important before I work with those who are important. After I will do that. First I did that. And now I know this way and this way. Now, on stage I don't know what I will do. I don't know. Sometimes this, sometimes that. Because da-da-da-dee-da-dee-da-dee-da-da is very nice, yeah? And, but I think today I, today certainly I will do this. I'm more for the thema-da-da-da-da-da-da. Today, I feel like that, yeah. But tomorrow not, but I do other things. Ok, ora abbiamo un altro cosa, c'è una cosa che... Insieme c'è un posto, un posto un po' ornamantico. C'è un po' ornamantico. Normalmente, si tolano... Mi piace questo. Perché il fuga è iniziato con la. Se faccio questo... Ho troppo... Se ho solo il la, il la, il la... È meglio il fuga. No. No. No... No. 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 Grazie a tutti. 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 No? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.